Hai che culo? Mi smetto subito ora. Mi viene a dire che culo fa 40 punti in giovanissola. Ci servono i punti. Pia. O guariscio. Pia, pia, allora. Ma tanto è perso, via, pia. E beh, pia con che? Che la fanno i coppi? Dici che piavi. Anche che gli devo due punti poi. Ma tu che piavi? Non ce l'hanno scherzo. Ma insomma, ce l'hanno per pia o no? Sì. E la pia, no? Piega la fante. Piega la fante. Dio, scherzo. Ce l'hai in carco? Sì. Allora che mi dici no, scema. Ah! Lì c'è l'assi. Gioca briscola. Sicuro? Ma che ne carichi? No, no. Gioche l'assi del denaro di deporte? Non gioco, basta. Gioca l'assi del denaro? Briscola l'assi del denaro? Vabbè ci ha provato. Tu perché stupida? Nooo. Gioca gioi gioiii, gioiii. Gioia del denaro. Gioca briscola!